Salve a tutti da Genocid e da Gundam Italian Club In questo video vi mostreremo questo bellissimo poster che troverete con il Master Raid del Gundam di origine Questo poster da un lato mostra le schematics del Gundam con le varie note del padre di Amuro, il Tenente Ray E dall'altro invece vi mostro questa tabella evolutiva dei Mobile Suite della federazione da una parte e di Xeon dall'altra Ora, quella di Xeon è sempre stata piuttosto lineare Abbiamo i vari Mobile Worker che passano poi al WAF e poi al Bugui Rambaral per arrivare allo Zaku 1, Zaku 2 E via dicendo, con piccola deviazione poi, qua giù non si vede bene ma ci sono i GUF e i vari prototipi del GUF Per poi arrivare allo Zaku High Mobility Test Type che porterà i Doom La grossa differenza invece con l'evoluzione dei Gundam, insomma dei Mobile Suite della federazione è che in origine la federazione ha già i Mobile Suite prima della guerra Addirittura c'è il Gundam che compare ben prima che Xeon comincia a sviluppare i Mobile Walker E ci sono i Gun Cannon che sono praticamente contemporanei agli Zaku 1 Anzi, gli Zaku 1 sono probabilmente stati appena prodotti quando la federazione già può nutrire un'intera battaglione di Gun Cannon dell'Iron Cavallery Come potete vedere tra l'altro qua si tratta di RX-76 mentre il Gun Cannon della storia classica è un RX-77 Se non mi ricordo male Comunque, poi invece abbiamo l'evoluzione del Gundam che dal prototip RX-7801 di cui qua non c'è l'immagine ma che si è visto nella sigla finale di The Origin La serie televisiva Si evolve poi nel 78-2 ma anche nei vari Gundam Land-Type E vi dicendo, fino ad arrivare all'acqua Gundam o Gundam Waterproof Type o Gundam Marine Type a seconda Gundam Diver addirittura viene chiamato Ma quello riporta a tutt'altro tipi di serie Tutto questo insomma dipende anche da come chi ha fatto le traduzioni e chi è l'autore della storia Come l'ha chiamato all'interno della storia e vi dicendo Personalmente in questo video mi vorrei concentrare su tutt'altro L'evoluzione dei Mobile Suites a produzione industriale in uso A produzione industriale, a produzione di massa in uso verso la fregazione terrestre Ma per quanto riguarda la storia canonica o semi-canonica della serie originale Quindi leviamo pure The Origin Allora Mettiamo Una tavolozza bianca per Meglio far risaltare alcuni mezzi Allora I primi mezzi a produzione di massa in assoluto usati dalla federazione in combattimento Sono degli Zaku Come si vede in MS Igloo Ma anche in numerose storyline di videogiochi vari come GrandsGrid Soprattutto in molti shortcut di GrandsGrid La federazione ha fatto i salti mortali pur di mettere le mani su un singolo Zaku Perché direte voi? Allora Fondamentalmente Perché direte voi se stavano già comunque progettando Gundam, Guncannon e Guntag? Vabbè Ma quello è anche armato Per il semplice motivo Per il semplice motivo che gli serviva studiare il programma di bilanciamento degli Zaku Ora Sebbene le conoscenze tecnologiche per creare una struttura 18 metri portante di così tanto peso Non sia tecnologicamente un vero e proprio problema In realtà anche per i tempi nostri esistono macchinari giganteschi che fanno veramente impallidire per le loro dimensioni Soprattutto all'uso industriale per grossi scavi Il vero problema Che è quello che ha Asimo Il robot giapponese Nonché i vari robot della Boston Dynamics È farli muovere Far sì che non cadano Non è una cosa semplice Far Impostare un programma per far camminare un robot Farlo correre Avere dei movimenti molto agili E che sembrino naturali Senza Passare anni A fare test di movimento Di autobilanciamento E ve dicendo Per questo Quello che serviva alla federazione Era il programma Di bilanciamento L'hambac Degli Zaku Una volta ottenuto quello La strada fu in salita Ma comunque Una volta ottenuto quello Anche con un singolo Zaku Serviva anche Addestrare i piloti Per poter controllare un bestione di 18 metri Possibilmente La maggior parte dei addestriamenti Venne fatta tra l'altro a Jaburo All'interno di Jaburo Tanto per farvi capire Quanto è grande Quel posto L'MS igloo addirittura Si vede un Intero protone di Zaku Controllato in realtà Da piloti da federazione Che fanno Irruzione nelle retrovie Di Zion Nel territorio nordamericano Per Saccheggiare E catturare Le basi di rifornimento Arretrate Della Appunto della federazione Sì Di Zion Nel territorio nordamericano Potremmo ottenere Parti di cambio Per altri Zaku Munizioni E perché no Quando ci riuscino A catturare Altri modelli Questo finché non arrivò Lidroff E gli fece Tabula rasa intorno Ma comunque È una puntata di MS igloo Che vi consiglio Vivamente Di guardare Comunque Una volta messe Le mani su Gli Zaku Alcuni insomma Vengono fatti A pezzi Per vedere Come erano costruiti Vennero Retro-ingegnerizzati E venne prodotto Un altro Modello Che venne Chiamato Zanni Era fondamentalmente Una via di mezzo Tra Un Zaku E un GM Ground Era una versione Retro-ingegnerizzata Del Dello Zaku Con tecnologia federale E venne utilizzata Si dice Venne utilizzata Esclusivamente Per compiti di addestramento Si vedono Diversi Zanni In Gundam Thunderbolt Che vengono usati Da La Alleanza Di mari del sud Come mezzo Da recupero Per Recuperare Di retriti E quant'altro E Poi Insomma Andando avanti Con la storia Si vedranno anche Combattere Perché Alleanza De mari del sud Usa veramente Di tutto e di più E quelli fondamentalmente Furono la base Per quello che fu Il primo Vero e proprio Mobile Suite A produzione Di massa Che la federazione Introdusse In battaglia A livello Di animazione Questo mezzo È stato Introdotto Con Zero Ritmo Biscuit Team E lo si Vede in Azione Da Dopo Il discorso Di Giren Sulla morte Di karma Ma Dato che Si tratta Di un'intera Divisione Non qualche Formata Qualche Plotone Di GM Ground Affiancati Poi Da Vari Gundam Ground Si Presuma Che siano Entrati in Servizio Molto Prima Addirittura In Lost War Chronicles Che è Un manga Pubblicato Dalla Star Comics Qua in Italia C'è Questo Delta Team Che Presumo Siano Un manga Da Delta Force Ai Diretti Comandi Del Generale Owen Che è Generale Del Gundam Project 0083 Nonché Amico Amico E Subordinato Del Generale Reville Che Usano Appunto Questi GM Ground In Operazioni Speciali Dietro Le Linie Nemiche In Canada Per la Precisione Ben Prima Insomma Del Del Loro Arrivo E Della Loro Apparizione In Zero Eight Mobile Suite Team Anche Perché Appunto Là Si tratta Di Interi Plutoni Quindi È Presumibile Che Già Unità Sparse Vengono Usate Prima Poi Con Le Varie Red Con MSGlue Questi GM Hanno Poi Fatto Anche Un po' Da parte Da Leone Già Odessa Dove Comparvero Anche Secondo Dei Red Con I Primi GM Normali I Medzi In Assoluto Più Prodotti Della Federazione Sono Fondamentalmente Basati Su Quelli Che Erano I Progetti De Schematics Del RITZ 7801 Prototype E Con Un Programma Aggiornato Grazie A Dati Programma Di Controllo Aggiornato Grazie Ai Dati Del Gundam Di Amuro Questi Insomma Sono stati In assoluto I Più Prodotti Di Tutta La Federazione Terrestre Contemporanea Tra l'altro C'è da Dire Che Vennero In Il frattempo Rilasciati Anche Diversi Modelli Di Gun Cannon Sia Beh I Classici Appunto Della Base Bianca Che Insomma Versioni Aggiornate Con Lanciamenti Varie Evoluzioni Versioni A produzione Di massa Ma Già Di Gun Cannon Sebbene In numero Molto Limitato Rispetto A GM Comparirono In Abbastanza Larga Scala Sui Vari Campi Di Battaglia Anche Se Poi Si Preferì Razionalizzare Il Tutto Partendo Da Sostituendo Di Con I GM Cannon Infatti Beh Piccola Nota Dal Che si Viene Zaret Mobile Suite Team Si Poi Passato Al Famoso Easy Eight E Poi Ai Blue Destiny Ah E Per Inciso L'altra Volta Mi Sono Sbagliato Nel Video Sul Goof Flying Type Perché L'Easy Eight In realtà Non fa Riferimento All'M8 Reound Ma Allo Sherman M 4 A6 E 8 Che Era Uno Sherman Molto Apprezzato Perché Soprattutto Andò Avanti Con La Produzione E La Sua Rivoluzione Insomma Anche Dopo La Seconda Rora Mondiale Piccola Nota Siccome Appunto La Federazione Aveva Un Estremo Bisogno Di Mobile Suite Prende Si Rivolse A Diverse Ditte Fece A Parti Sub Parti Anche Per Necessità Secondare Perché Per Esempio In 0080 Compare Anche Il GM Cold Climate Type Che Appunto Come Suggerisce Il nome È Un GM Atto All'uso In Scrimi Estremamente Freddi E Rigidi Tatt'è Che Venne Utilizzato Nella Base Artica Della Federazione Anche Se Per Inciso Dato Il Periodo Dove Essere Già Estate Quindi Non Così Tanto Rigidi Però Intanto Gli Utilizzavano Là Questo GM Poi È Stato La Base Per Altri Mezzi Che Compaiono In 0080 Ovvero I GM Command In Usato Nelle Colonie In 0080 Ovviamente Sì Ma Questo Mezzo È Quello Che Usano Anche In Gundam Blue Destiny Il Team Delle Cavie Che In realtà Da molte Parti Chiamano Precisamente I Guinea Pigs Che Sono Appunto Chiamati Anche Porcellini D'India Qua In Italia Ma Sono Appunto Degli Animaletti Roditori Molto Difusi In Sud America Da Quei Appunto Magali Nella Nuova Guinea Il Cui Nome Scientifico È Appunto Cavie Tratto Esiste Anche La Versione Space Type Ma Sempre E Da Questi Modelli Poi Deriva Anche Il Gem Snipper 2 Mentre Normale Gem Snipper Custom Deriva Dal Modello Di Base RGM 79 GM La Gem Snipper 2 Invece Poi Deriva Soprattutto Per quanto Riguarda Il Lato Focus Oggi Soprattutto Per quanto Riguarda Il Backpack I Nemo Dell'AEUG Che Sono Appunto Derivati In Parte Da In Gran Parte Da GM Snipper 2 E Per quanto Riguarda Sistemi Avionica Dai GM 2 Normali Ora Prima di Arrivare A GM 2 Che Venne Introdotti Molto Dopo La guerra Di un anno Ma Comunque Molto Prima Di Z Bisogna Parlare Di Un altro Mezzo Il cui Prototipo Viene Introdotto Già In Z Mobile Sheet Team Nell'ottavo Plotone All'inizio Quando Insomma Shira Amada Va in battaglia Su una Ball Va a salvare Un Plotone Di GM Ma in realtà Insomma Era rimasto Soltanto Uno Dei GM Early Type Che Non sono Altro Che La base Dei RG 79C GM Pec C Detto anche GM Kai Questi mezzi Come potete vedere Anche dalla scatola Si tratta di un kit regolare È un mezzo di Gundam 0083 Ora Nonostante Venga prodotto In Gundam 0083 Questo mezzo Viene introdotto Già Nell'Universal Century Durante la guerra D'un anno Da diversi Manga E Videogame Tra l'altro È il GM Type C Il nuovo mezzo Che viene Assegnato A Guinea Pigs Di Gunna Blue Destiny Che è dotato I quattro motori E il tecnico dice Specificamente È È stato progettato Per poter contrastare I Doom E Yooka Yooka Jima Del Guinea Pig Si è in grado Di contrastare Anche l'altro E con l'altro Si riferisce Ovviamente Al GM Anzi GM Al Gundam Blue Destiny Con la testa Da GM Che ha Asfaltato Completamente Tre protoni Di GM Per Unità Di test Perché erano Comunque Tre squadre Da tre Sono Sovra vissuti In tre Anzi Sono sovra vissuti In quattro Di cui non ho riferito Tutti gli altri Sono stati Uccisi Distrutti Da GM Blue Destiny Quindi È ovvio Che Il suo tag Lo sia Battere Quel Blue Destiny Come vedete In la scala Ci sono Alcune scene Del Tratte Da 0083 Si vede Innanzitutto Qua Il tipico Scudo Del GP02 Un Doom Troopen Perché Questi mezzi Vengono usati Dal Adesso Non mi ricordo Dal reparto Insomma Da un altro reparto Presente Da base Di Torrington Fondamentalmente Questi mezzi Anche se Vennero introdotti Già Durante La guerra Di un anno Vennero poi Cosmic Group Che ho comprato A Romics Divennero poi Il mobile suite Principale Su cui Si standardizzò La federazione Terrestre Dopo la guerra Di un anno Quindi Vennero Cancellate Fondamentalmente La linea di sviluppo Dei Coclemate E Command Venne cancellata La linea di sviluppo Dei GM Ground Gundam Ground Come ho già detto I GM E I Gun Cannon Vennero passati In realtà Sulla linea Del GM Cannon Che era basato Gem Classico Che rimase Comunque in servizio Perché era stato prodotto In tantissimi numeri Zanni E Zaku Passarono I Zanni Che in realtà Le due prestazioni Non erano Neanche Finirono Ad essere Addirittura Si dice Passati a ditte Private Come mezzi Dal lavoro Mentre I Zaku Rimase in servizio Soltanto Come Aggressor Unit La federazione Ne catturò Molti In moltissime Varianti Di Zaku Goof Doom E vedicendo Che in alcuni casi Li mantenne in servizio Addirittura fino a Z Gundam Come appunto Mezzi per L'aggression Unit O per Test Di sviluppo E vedicendo E In Gundam Sia come si vede In 0083 Che come si vede In Nel manga Di Federation Hooligans Vengono usate Molto Questi Concetti Di un'Italia Class of the Unix Ovvero Un gruppo Di Piloti Addestratori Che utilizza Mezzi Del nemico E tattiche Del nemico Per poter Addestrare I Vari Protoni Insomma I vari cadetti I vari piloti A Saper affrontare In battaglia Qualsiasi Situazione E poter Contrastare In maniera Efficiente Le tattiche Più usate Del nemico Tra l'altro Tra l'altro Del GM Type-C Già Durante la Guerra Di un anno Vennero fatte Delle varianti La più famosa È Il GM Striker Che era Fondamentalmente Un normale GM Type-C Di ricoperto Di piastre Reattive Con tra l'altro Alcuni Componenti Del motore Tra l'altro C'è da dire A proposito Del motore Come potete Vedere qua In questa Immagine Del retro Il motore Del Type-C È esattamente Quello Del GM Cold Climate Tra l'altro Quando E venne disegnato Accatorico Questo GM Quando lo disegnò La prima volta Li disegnò Una versione Bianca e rossa Vabbè Insomma Con la grida Il classico GM Ma Col Backpack Del GM Combat Space Type Quindi insomma Si può dire Che È un'ottima Base Per diverse Produzioni Già In 0083 Si vede Il Il GM Powered Che è sempre Basato sul Type-C Ma Quello che Molti non sanno È che anche Il GM Custom È basato Sul Type-C Perché Nonostante Abbia Comunque Il backpack Del Gundam Alex Perché si Il GM Custom Ha il backpack Del Gundam Alex Le braccia Spade a parte E le gambe Dove forse C'è qualche Piccola modifica Sono Pressoché Identiche Anche insomma La forma Dei connellini Sono identici Se non Per l'aggiunta Di Energy Cap Subra Subra Subra